Il Consiglio regionale del Piemonte celebra i 70 anni del voto alle donne, organizzando quattro appuntamenti per le scuole con il Comitato Resistenza e Costituzione, TGR Rai Piemonte e Agis Scuola. Gli incontri si terranno al Cinema Reposi di Torino. Obiettivo ricordare le vicende e le protagoniste di quell'epoca attraverso le esperienze delle partigiane piemontesi e di alcune donne di primo piano nel panorama di oggi. Il Via, venerdì 29, prossimo con la partigiana Carla Dappiano e l'attrice Geppi Cucciari, che dialogheranno con Simonetta Rò. Il 19 maggio le ospiti saranno la partigiana Daniela Dell'Occhio e Nadia Pastrone, fisica al CERN di Ginevra, che risponderanno alle domande di Silvia Rosa Brusini.